PEGI 7 SEGA Che cosa? HECKMAN! Anch'io eviterei di lavorare con i tuoi certi miei nemici Beh, lavorare insieme a te sì che è la fine del mondo, HECKMAN Non ci sono dopo, però asciuterà il contatto Molto bene, siamo pronti a partire Ma guardalo, mister, come sono veloce Gli farò abbassare gli affini Fulmine! Sisma! Asteroide! Il tuo impegno è impressionante, Riccio Blu Ma sei destinato a fallire Freghiamoci e distruggiamolo! Quanto ai danni, comincia a preoccuparti per la tua faccia Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Quanto ai affari Quanto ai che ainda chei